E' ora, Kevin? Sì. In un film che vi porterà dove nessun fan è mai stato. E' un evento assolutamente straordinario. Mai visto niente del genere. Pensa che mi tremano ancora le gambe. Uno, due, tre. I'm sleeping and sipping on me. And I'm drinking for coming up. Baby, don't tell me to push you hard. Cause I'm letting up, letting up. You, baby. Jonas Brothers, the 3D concert experience. Prossimamente solo in Disney Digital 3D, nei migliori cinema.